Io trovo spesso che al termine fede si dà un contenuto molto intellettuale, come se fosse qualcosa che si esaurisce nel pensare in una maniera nuova. C'è anche questa componente, io credo che non debba essere assolutamente esclusa, ma ricordo che il Papa Emerito, Benedetto XVI, nella prima pagina dell'enciclica Dio e amore, dice che la fede cristiana non può essere ridotta a una serie di belle idee e neanche all'abitudine di certi comportamenti moralmente positivi o religiosamente significativi, ma nella sua radice e nel suo centro vitale la fede è il risultato dell'incontro con una persona. E se non c'è l'incontro con la persona di Gesù, ci possono essere altre esperienze religiose con tutto il rispetto, ma non c'è fede cristiana.